Si comincia con un momento musicale, del resto il violino, che è stato importato e diffuso dagli arabe ed è lo strumento più adatto per riprodurre le melodie arabe, è nato in Italia. E sono proprio l'Italia e l'italiano, oggi i veri protagonisti, qui all'Università di Bethlehem, dove è stata inaugurata una nuova presenza, la prima nei territori palestinesi, della società Dante Alighieri. A presentarla la presidente Elisabetta Spagnolo Bascia, che illustrando gli scopi della società Dante Alighieri ha messo in luce i molteplici legami esistenti tra l'Italia e la città di Bethlehem, scambi reciproci e un'intensa passione del mondo palestinese per l'Italia, per la sua cultura e per la sua lingua. Qui in Palestina la lingua italiana è molto parlata, però anche a livello mondiale si sente che è una lingua un po' messa dietro le quinte rispetto a livello internazionale, nei rapporti commerciali o politici. Però anche come sento forte, la lingua italiana può essere la lingua sposa, nel senso di una lingua che si sceglie per passione, perché è una lingua che ha in sé un forte valore aggiunto di cultura, perché rappresenta una cultura che nel tempo ha fatto il patrimonio dell'umanità. La cultura e la lingua hanno il potere di favorire il dialogo, l'incontro e lo scambio. E in una società palestinese piuttosto chiusa e isolata, un interesse nei confronti della cultura, della letteratura e della musica può svolgere un ruolo importante. Nella gremita Furno Hall dell'Università Cattolica di Bethlehem, accanto alla presenza tra gli altri del nunzio apostolico delegato in Palestina, Monsignor Antonio Franco, ci sono i rappresentanti di alcune scuole cristiane, fra cui un gruppo di studenti del Terrasanta che studiano l'italiano, e palestinesi in qualche modo affezionati all'Italia. Ma c'è anche chi è nato in Italia e qui si è trasferito per lavoro o impegno missionario, oppure chi si è formato in Italia e vuole tramandare qui, nel suo territorio, la cultura e la lingua italiana. E proprio i corsi di lingua sono le attività della Dante Alighieri che suscitano il maggior interesse, rivolti principalmente ai giovani, essi danno la certificazione PLIDA. PLIDA è il progetto lingua italiana Dante Alighieri. Il PLIDA è una certificazione riconosciuta dal Ministero degli Esteri, dal Ministero del Lavoro e dal Ministero della Ricerca e dell'Università. Per cui il giovane che qui riesce a prendere il certificato PLIDA, che comunque è uno scoglio molto importante, non solo ha un'ottima conoscenza dell'italiano, questo è garantito, ma può entrare molto più facilmente, può avere un impatto molto più semplice con il mondo italiano, con l'Università italiana. Fra le varie attività culturali della nuova sede della società Dante Alighieri a Betlemme, una rassegna cinematografica di film italiani, la merenda letteraria per i più piccoli, con la lettura di una fiaba illustrata e una particolare iniziativa natalizia. Sotto Natale abbiamo pensato di proporre un brano del Paradiso di Dante Alighieri, il brano dedicato alla Vergine, che è un concentrato di teologia, ma ci sembrava bello anche in questa cultura, in cui è presente appunto la cultura musulmana, chiama molto la Vergine, ecco ci piaceva molto riuscire a trasmettere anche questo aspetto tramite la letteratura.